È stato un episodio interessante, decisamente. Se tralasciamo quei frame brutti dei quali nemmeno mi ero reso conto se non l'avessi saputo prima, è stato un bel episodio, è stato un bel episodio. Ci avrei giusto una cosa da dire riguardo il finale che non mi è piaciuta, ma a parte quello ci stava, decisamente all'altezza, soprattutto se paragonato al quinto, che è stato orribile. Con questo qua si sono decisamente ripresi. Avrei giusto qualcosina da redire sulla corsa tra Yano Kogi e il presidente, cioè forse sarebbe stato meglio farla un po' più epica, un po' più... Cioè era bella, però magari mi aspettavo qualcosina di più. Grazie anche a Shaninja per il follow. A parte questo, io continuo a dire che comunque questo festival sportivo è stato gestito da Kaniki, perché come potete vedere loro stanno a 9500 contro 9400 e noi abbiamo visto tre gare. Tre. Tre gare. Tre gare che sono state la corsa sulle... Aspetta, sono state la cosa che mentre stavano tipo sulle spalle, uno sopra l'altro, che poi non l'abbiamo nemmeno visto, cioè ci hanno fatto vedere tipo dei frame. Ci hanno fatto vedere dei frame di quella gara, forse di altre due. Due, mentre perdevano e mentre quello là veniva pestato nello scorso episodio. E questa qua è stata la quarta gara che ci hanno fatto vedere. Ci hanno anche schippato la parte in cui loro due correvano con il laccio che erano allacciati insieme. Questa gara qua, cioè ci hanno fatto vedere che si stavano preparando, ma è stata schippata. Infatti, se vi ricordate a questo punto, quando hanno detto ci servirebbero due persone che sostituiscono questi due ragazzi, io pensavo, ma per caso è un flashback? Perché letteralmente avevano scelto... Avevano scelto proprio loro due. Avevano scelto proprio Kushida e proprio Ayano Koji. Quindi credevo che quella parte che avevamo visto dei loro due che si legavano a vicenda fosse un flashback. Cioè, comunque... Cioè, secondo me il festival sportivo è stato gestito da cani. Veramente non mi è piaciuto come arco narrativo, non mi è piaciuto per niente. Però questo episodio era di certo migliore degli altri. Questo, sì, il finale non mi è piaciuto molto. Perché non mi è piaciuto? Perché io continuo a pensare, regà, che il personaggio di Reiji, lui... Questo personaggio, regà, secondo me lo stanno gestendo veramente da cani. Non mi piace. Sembra troppo P. Sembra letteralmente troppo P. Qualunque cosa fa, lui dice... Cioè, qualunque cosa fa, dice che gli andrà bene. Dice che... Cioè, anche questa cosa della registrazione. Prima che ci fosse la terza registrazione, lui, letteralmente, mentre stavano parlando, gli ha dato ragione. Cioè, come dire, gli ha detto, ti devi inginocchiare, mi devi dare i punti. Quindi, cioè, era un discorso ipotetico. Ma in che universo fai sentire la tua registrazione completa e le persone ti credono? Cioè, non è tanto che gli potrebbero pure credere, per carità, ma lui lo dà per scontato. Cioè, tutte le cose che fa questo stronzo manipolatore, doppio giochista, sembra che... Ah, vabbè, tanto mi basta dire che era tutto finto. Mi basta dire che l'hai fatto apposta. Cioè, sembra quasi che qualunque cosa dice gli credono. Qualunque cosa dice gli andrà bene. Questa cosa non mi piace, perché non l'hanno spiegata bene. Cioè, se è così, se ha... L'ipotesi che già avevo detto nello scorso episodio e che mi viene da ribadirvi, è che sembra lui avere degli agganci. Sembra avere degli agganci all'interno della scuola, tra i professori, e quindi tramite queste cose qua riesce a spuntarla, riesce a farla franca ogni volta. Però, ogni volta, le cose che si inventa sembrano un po' delle puttanate clamorose. Non so come faccia a essere sicuro di quello che dice. Lo gioca molto sull'usare comportamenti ai limiti delle regole. Non si vede, ma lui studia le regole per capire fin dove può spingersi. Ci sta, però mi piacerebbe che lo facessero vedere meglio. Cioè, mi piacerebbe che approfondissero un po' di più il modo in cui lui ogni volta elude le regole, o in cui pensa di eluderle. In realtà, lei vuole espellere tutti quelli che sono a conoscenza del suo doppio lato, del suo lato yandere, del suo lato da pazza psicopatica. Quindi, magari, alle medie, ha fatto qualcosa di molto particolare, di molto un po' assurdo, e non vuole che si sappia, per questo vuole fare espellere cosa... Oricchita. Staremo a vedere. Comunque, oh, regà, devo dirvi... Bello. Pure questo episodio è bello. No, no, no. Decisamente... Io, guarda, credo che... Di episodi sullo stesso livello del quinto, ovvero orripilanti, non ne vedremo più. Non ne vedremo veramente più. Se volete votare, c'è il link in chat, l'ha appena messo Scemmi. Quindi, sì, dopo già questi due episodi possiamo, penso, stare tranquilli. Anche questo è stato un episodio figo. Come al solito, le cose che si inventano mi piacciono un botto. Il paper shuffle è fighissimo. Questa cosa che devono fare queste coppie, basate sul mini-esame, devono preparare le domande per le altre classi, e devono anche scegliere contro quale classe andare. Quindi beccarsi le domande di quella classe è decisamente divertente. Decisamente una cosa ben studiata. Pure c'è l'incognita dell'espulsione. Dovremmo anche vedere quali domande la classe C ha architettato per mettere in difficoltà la classe D. Cose molto fighe, cose molto fighe. Decisamente interessante. Il discorso di Rewen con la classe C nella novela è molto più lungo ed è stato tagliato. Nel suo discorso fa capire tutti i suoi ragionamenti per trovare il traditore. Utilizza varie finte tattiche come controllare i telefoni, ma era tutta una finta perché riesce a capire la vera natura di una persona solamente dal guardarla e analizzarla. Paper Shuffle bello, la dichiarazione all'inizio non me l'aspettavo, però questa Sato è molto, molto carina, quindi apprezzo. È molto, molto caruccia, mi piace. E la faccia che ha fatto Yanokoji me la voglio incorniciare. Me la voglio veramente incorniciare questa faccia. Facciamo un bello screen. Abbiamo avuto Kay che continua a essere... Io l'apprezzo, devo dire. Kay l'apprezzo parecchio, è decisamente un bel personaggio. E molto meglio di prima, lo so. Nuova icona del canale, dovrei. Fai un display. Ah, devo dimostrarvi l'illustrazione di Kay, assolutamente. Poi in realtà, guardate, non penso veramente che ci sia molto da dire sull'episodio. C'è sempre anche il problema di cuscita, che non sappiamo bene cosa dovrà fare. Cioè, come dire, la tengono insieme a loro. Vabbè, togliamo quest'immagine. La tengono tra di loro perché, giustamente, non possono toglierla dal gruppo, altrimenti risulterebbe sospetto. Lei comunque può ricattarli. È una situazione interessante. Quindi, vedremo. Vedremo un po' come si risolverà anche nel film. Diciamo che è stato un episodio molto incentrato anche nelle relazioni interpersonali. Hanno fatto vedere Sato che si confessa. Kay che, come dire, fa sempre la zunderina che gli piace a Yanokoji. Pure Orekita che si scusa che non è Yanokoji, arrossisce, tutte queste cose. Apprezzo. Questi episodi di questo tipo ogni tanto li apprezzo. Sono entrato per vedere... Sì, 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 lo so. Sei veramente un fregno. VTuber low cost edition. Ma infatti ogni tanto, guarda, lo attiverò. Ogni tanto attiverò questo filtro di Yanokoji. Tipo divento una VTuber. Ah! Mi sono ritrovato anche questa bella immagine di Scindiro che possiamo liberarcene però. Via. Quindi... In realtà, vabbè, questo è stato l'episodio. Niente di più, niente di meno. Quindi non mi pare ci sia altro da dire. Per quanto riguarda l'illustrazione di Kay... Ah, c'è stato, è vero, è vero, è vero. C'è stata l'introduzione del passato di Kushida. Però non ci hanno detto molto, eh. Ci hanno semplicemente detto che creava problemi nella sua classe. Ci hanno fatto vedere questo framing in cui c'è tutto questo... Non sangue, però ha tipo distrutto la classe. Non ho capito se è una roba tipo una metafora, una sorta di cosa finta. Ovvero che non è che lei ha fatto effettivamente questo alla classe, ma ha semplicemente forse distrutto la classe dall'interno a livello di relazioni, a livello di persone. Penso più forse questa, cioè che ha creato problemi all'interno della sua classe, ma non è che ha distrutto l'aula come vediamo qui. Però non lo so. Comunque di certo ha qualche problema, ma se era capito... Non serve, insomma, vedere pure questi frame se era già capito che aveva qualche problema. Ma vedremo se lo spiegheranno del tutto il suo passato. Ok. Ok, ok, ok. Beh, beh, beh. Non male, non male. Questa parte è addirittura meglio della novel. Ma infatti ve lo stavo a dire, mi è piaciuta un botto. La backstory di Cuscita è stata proprio figa, è stata. Veramente bella. Cioè, in realtà, non è che sia stata proprio incredibile, parliamoci chiaro, però fatta bene, dritta al punto, gestita bene, mi è piaciuto. Veramente Classroom si è ripreso. Si è ripreso al 100%. Da... Cazzo, ma è assurdo come veramente un episodio può comunque rovinarti un'intera serie. Cioè, io mi ero fermato all'episodio 5 e mi sono perso, quindi, gli ultimi due episodi, il 6 e il 7, e il 5 mi ha veramente lasciato proprio l'amaro in bocca. Gli episodi sono decisamente molto, molto meglio. Cioè, non avrei... probabilmente fatto tutti questi discorsi su Classroom se avessi... o comunque i discorsi che ho sentito su Classroom non l'avrei sentito così tanto se avessi visto anche questi episodi. Purtroppo il 5 è stato letteralmente l'apoteosi della merda, quindi tutto quello che sentivo dire mi pareva tutto sensato, tutte le critiche e le cose anche sugli episodi dopo. Dicevo, vabbè, se l'episodio 5 è stato così, giustamente anche questi qua faranno cacare, perché se la linea è quella... Invece no, questi qua sono stati belli. Sia il 6 è stato bello, il 7 è stato figo, questo è stato il migliore. Questo è stato a mani basse il migliore. Nonostante, diciamo, nella prima parte non succede niente, perché essenzialmente sono loro che fanno i gruppi di studio, quindi per metà episodio non succede molto. Però nella parte finale c'è la scommessa, giusto per aggiungere un po' di carne al fuoco. Tanto diciamo che la situazione con Cuscita prima o poi andava risolta. Prima o poi andava risolta, quindi ci sta a risolverla in questo modo. Ha anche coinvolto l'ex presidente, mi piace come cosa. e bisognerà vedere un attimo come farà, cioè ovviamente vincerà Orikita. Questa è un piccolo, come dire, piccola nota di demerito, perché alla fine è ovvio, cioè il risultato di questa scommessa è palese. Vincerà Orikita, vedremo un attimo come si gestiranno il tutto. Però bella la parte del passato, cioè la parte migliore di questo episodio è indubbiamente il passato di Cuscita, che è scontato per certi versi, ma è reale, secondo me. Cioè è un passato attinente, è una cosa non folle, non è una cosa assurda, non è che lei è una pazzoide scoppiata che ha fatto cose assurde, è effettivamente una cosa che potrebbe succedere attinente alla realtà, quindi apprezzo, apprezzo. Cioè non metto in dubbio che ci sono sicuramente persone alle quali piace stare al centro dell'attenzione, che hanno manie di protagonismo e che magari in passato, alle medie, all'elementario, quando essi sono comportati, hanno provato l'ebbrezza di venire adulati e quindi gli è piaciuto. Bello anche il modo in cui poi tutto è degenerato, ovvero lei che non riusciva a sopportare le pressioni, tutto quello che faceva, quindi ha riversato tutte le sue frustrazioni in questo vlog. In questo vlog. Ti atteggi come se fossi la migliore della classe, ma non sai che esiste una chat di gruppo in cui sei l'unica esclusa. Mia cara ape regina. I ragazzi non ti sopportano, tutti dicono che dovresti fare qualcosa per quel carattere di merda che ti ritrovi lol. Lol bello. Lol rende il tutto più carino. E poi vabbè, quindi lei ha letteralmente distrutto la sua classe in questo modo. Boh, diciamo che come passato non... non so se giustifica il fatto che lei è così pazzoide. Ci può stare, però forse è anche un po' troppo pazzoide per quello che ha fatto. Adesso io voglio una cosa. Questa cosa che mi avete fatto su Cuscita, fatemela per tutti gli altri personaggi. Una richiesta di poco conto, perché letteralmente, raga, io ve lo... il problema principale che vi ho detto di Classroom, ovvero non conosciamo gli altri personaggi. Orikita sì, perché comunque sappiamo il discorso con il fratello, un po' di caratterizzazione spinta ce l'ha. Adesso Cuscita c'è stato chiarito tutto quello che riguarda Cuscita e come personaggio è decisamente migliorato, l'ha apprezzo molto di più. Mi sta sempre sul cazzo, ma comunque riesco ad apprezzarla di più. E raga, lei fantasma, Kay, in realtà vabbè dai, di Kay qualcosa la sappiamo, il fatto che veniva bullizzata, che si tagliava, queste cose qua. Però forse potrebbero dargli un po' più di spazio considerando che è un personaggio che... Sì, gliel'hanno dato in questa stagione, però forse servirebbe qualche altra cosa. Lui mi serve più approfondimento su Rewen, assolutamente, prima o poi devono approfondirmelo, perché è un personaggio che lo fanno sembrare fin troppo importante. Icinose, vabbè, è scomparsa, l'abbiamo vista tipo fino al terzo episodio, poi scomparsa nel nulla, quindi mi piacerebbe. Comunque, poi c'è anche questa tizia, la tizia del tè, della classe A, diciamo che, insomma, questo discorso di approfondimento sui personaggi me lo devono fare anche sugli altri. Cioè, il problema è che, che vi ho detto, attualmente ci sono molti personaggi dei quali non sappiamo niente, non sappiamo cosa pensano, come si comportano, pure questo, che cazzo ne so, il biondino, Boggi, Style, Sato, in realtà non è che penso sia molto importante, però credo che dovrebbero approfondire quantomeno altri 3-4 personaggi per darci un quadro completo della situazione e capire anche tutte le dinamiche che si creano tra tutti i PG, quindi sì, spero che questa cosa, non pretendo che avvenga nei prossimi episodi, però spero che questa cosa di Cushida, d'ora in poi, verrà fatta anche per altri personaggi, sarebbe molto buono. Come faranno ad evitare che Ryuen passa tutte le domande a Cushida e quindi Cushida prende il massimo del voto? Oddio, sapete che potrebbe succedere effettivamente? Prendono entrambe il massimo del voto e quindi la situazione non si smuove. Sì, dai, 8 ci sta. Cioè alla fine, perché secondo me 8 e 25 al terzo episodio è meglio, cioè ci può stare come cosa, perché era comunque la conclusione di un bel arco narrativo. Oltre al fatto che succedono belle cose, si concludeva in maniera molto bella un arco narrativo interessante. Qua invece diciamo che siamo ancora a metà, probabilmente manca un episodio, forse due, quindi 8 va bene. Ovviamente abbiamo detto tutto quello che c'era a dire su Classroom, finisco col dirvi che tra tutti gli archi narrativi che abbiamo avuto, questo, spero e credo che abbia il potenziale per essere il migliore. Quindi diciamo il primo arco narrativo è stato quello della nave dove facevano la cosa dei pianeti, il gioco dei pianeti, quella roba là. È stato carino ma un po' mi ha deluso. Avrei preferito un episodio in più, comunque mi aspettavo qualcosa in più. Il festival sportivo è stato una cacata, nonostante si sono ripresi con l'ultimo episodio non mi è piaciuto per niente il festival. È durato tre episodi e due dei tre episodi hanno fatto cacare al cazzo, quindi no, non mi è piaciuto. questo ha tutte le carte in regola per essere il migliore di questa stagione che possiamo chiamarlo l'arco narrativo del paper, come si chiama? Paper swap, paper, ma non mi ricordo. Ayanokogi poker face, eh sì, poker face, esatto, esatto, poker face. Dopo questi tre episodi ci siamo totalmente ripresi dallo scivolone che hanno fatto nel quinto. Ok che hanno saltato ancora qualche altra cosina come avete detto, però questi tre episodi sono stati veramente molto carini, molto molto carini. È stato un crescendo è stato alla fine. Il sei era carino, il sei era buono, il set è meglio e questo qua è il migliore di tutti, quindi ci sta. Allora questa, sapete chi sembra? forse un misto tra i cinose e capelli rosa? O forse no, un misto tra i cinose e cuscida versione carina, versione quando non fa la pazza, però sì, molto bella pure lei. Fuka è meglio, Fuka la preferisco, ha più stile. Fuka ha decisamente più stile, ti guarda qua. Quindi sì, lei è carina, ma Fuka è meglio, quindi togliamo questa qua, togliamo questa qua, per adesso lasciamo lei. Poi che abbiamo il costume, vabbè il costume non l'ho visto raga, non l'ho visto, mi spiace. Poi qua già la vedi un pochino, un pochino incazzata e poi, giustamente ci sta questa qua che è da apprezzare raga, è solo che è da apprezzare, da fargli un applauso, però particolare sembra, mi è interessante, questa qua è decisamente interessante lei, cioè tra le tre forse è quella che è un po' più accattivante, un po' mi dispiace un po' che è patta, cioè pure questa qua sembra un po' una pazzoide, una Yandere 2.0, però, però raga è figa, quindi la accettiamo, la proviamo, la proviamo, anche se è Yandere.